produrre energia da fonti rinnovabili una filiera che parte appunto da questi prodotti che vedete alle mie spalle sono barbabietole polpe di barbabietole ma anche scarti della lavorazione elementare che diventano in un digestore diventano biogas per poi essere trasformato in energia elettrica abbiamo detto quindi che ci occuperemo di energie rinnovabili mi trovo a granarolo falentino e sono proprio sopra un biodigestore sotto di noi ci sono tonnellate di sostanza organica che stanno per così dire lavorando e produrre biogas bene ne parleremo con degli esperti mi trovo quindi in questa azienda agricola azienda ricci e vedremo anche uno dei titolari beh vi presento i nostri ospiti che saranno con noi per parlare appunto di questa energia che viene prodotta con sostanze organiche con me Gabriele Lanfredi che è presidente del CNB e GCGB che è Confederazione Generale Bieticoltori Italiani e questo è Cristian Ricci che è il titolare di questa azienda è uno dei fratelli di questa grande azienda parleremo anche di questo e anche Italino Babini che è presidente della cooperativa APROS bene prendo questo discorso voglio farlo iniziare da quella che è la materia prima su cui poi si fonda anche questo progetto di produzione energetica barbabietole da zucchero un settore ahimè che è scomparso nel nostro territorio c'erano 19 zuccherifici anni fa ne sono rimasti due quindi a un certo punto tre anzi mi corregge il presidente e quindi insomma si è deciso anche di dare un'alternativa no e anche per cercare di dare valore raggiunto quelle che sono le aziende agricole allora una piccola sintesi di quello che è avvenuto in questo comparto insomma giusto per ricordare i nostri amici telespettatori che cosa è avvenuto sì certo nel 2010 con la riforma dello zucchero ci siamo trovati delle risorse finanziarie importanti e dovevamo decidere come investirle abbiamo deciso di investirle per la valorizzazione delle produzioni agricole delle nostre aziende agricole che erano bieticoltori che non potevano più fare le vietole perché hanno chiuso i zuccherifici e quindi siamo partiti con questa avventura una scommessa un progetto unico in europa che si basava sulla trasformazione agroenergetica della polpa suppressata delle aziende degli zuccherifici che erano rimasti sostanzialmente e attraverso questa trasformazione integrare il prezzo delle barbabietole attraverso quindi il prezzo che veniva dato per l'incentivo energetico il progetto ha avuto successo oggi noi abbiamo in proprietà come gruppo 18 impianti biogas siamo in grado di trasformare tutte le polpe dei nostri associati ma non solo tutte le aziende agricole che non facevano più bietole perché non potevano conferire gli zuccherifici perché erano chiusi come in questa zona gli ritiriamo il mais il sorgo il triticale tutte produzioni agricole che vengono valorizzate a prezzi sensibilmente più alti del prezzo di mercato e soprattutto non si butta via nulla ne parliamo adesso anche con cristian appunto la tua è un'azienda molto strutturata una piccola scheda aziendale insomma questa è un'azienda importante che a tutto tondo produce e coltiva sì noi come azienda agricola produciamo lavoriamo 600 ettri di terreno tra proprietà e affitto produciamo orticole a vigneto e un terzo dell'azienda è dedicata alla produzione di mais per il biodigestore quindi voi utilizzate sia i sottoprodotti e quindi che vi arrivano anche sottoprodotti di volte di scarto che è uno scarto insomma alimentare che non va disperso sì perché comunque negli ortaggi dopo la lavorazione industriale torna l'impianto la parte la parte di scarto quindi patate cipolle principalmente che entrano nel digestore sì che entrano il digestore poi abbiamo un'altra azienda qui sempre della zona che produce frutta secca e anche loro portano al digestore tutto lo scarto della frutta secca non a guscio quindi bambini apros cooperativa che aveva una funzione prima insomma per i soci nei confronti dei soci con questo nuovo progetto cosa fa apros apros ha dovuto riconvertire la propria attività dal settore bieticolo nel quale eravamo leader per la romagna al settore sementi poi con questa nuova impresa la società si chiama agrimetano che gestisce questo biodigestore proprietà del 50 per cento di apros e del 50 per cento della famiglia ricci riusciamo a coinvolgere sul territorio tutte quelle aziende che ancora fanno barbabietole perché come diceva l'anfredi prima valorizziamo il sottoprodotto della polpa surpassata retribuendola circa il doppio del valore di mercato e quindi rafforzando la possibilità di fare reddito per l'azienda agricola in più abbiamo tutta una serie di produttori locali entro i 7-8 chilometri che producono anche mais per questo biodigestore per cui a tutto tondo coinvolgiamo l'agricoltura locale nella produzione di energia rinnovabile noi l'abbiamo detto prima ci troviamo sopra appunto questo grande digestore Cristian allora la superficie complessiva noi vediamo queste grandi trincee al di sotto delle quali insomma c'è il trinciato che è stato diciamo accumulato e le polpe durante durante l'estate complessivamente è una superficie molto estesa questa allora l'impianto è stato costruito su una superficie di quasi tre ettari le trincee sono quattro e sono formate comunque da 40 hanno una capienza di circa 40.000 quintali 4.000 tonnellate l'una dove noi insiliamo mais e polpe stratificate questo è un impianto che è automatizzato si può dire insomma se riusciamo magari a spiegare sinteticamente il funzionamento insomma senza entrare magari nei dettagli troppo tecnici perché abbiamo detto c'è l'intervento umano è solamente nel momento in cui l'operatore carica diciamo l'impianto con la materia prima quindi parte tutto da lì sì in realtà l'intervento umano non è solo il carico ma è un controllo 24 ore su 24 ore questo impianto funziona ininterrottamente 24 ore su 24 365 giorni all'anno produciamo gas, energia elettrica e quindi è fondamentale la reperibilità il controllo sistematico di ogni passaggio produttivo se si vuole produrre bene se no ci sono anche dei rischi ambientali oppure perdite di produzione rilevanti quindi il processo è questo insomma la materia prima entra in questa grande tramoggia poi subisce una prima diciamo trasformazione poi non vediamo uno stabilimento con cupola insomma un minimo di funzionamento come funziona? come un corpo umano alimentato dalla tramoggia quindi dalla bocca del digestore viene diluito attraverso acqua e una parte di residui precedenti in modo da fermentare dentro queste due enormi vasche fermentando si produce il gas che viene stoccato nella cupola che abbiamo qui di fronte da questa cupola viene in parte depurato, raffreddato e trasformato attraverso un motore a scoppio quindi un normale motore a metano molto grande in un megawatt di energia elettrica ecco quello vorrei che il nostro amico cameraman inquadrasse appunto questo grande motore è un motore che nel momento in cui si dovesse fermare cosa succede? perché poi la produzione di metano continua ad andare intanto non si ferma devo dire che i nostri impianti su 8.700 ore hanno 8.650 ore di funzionamento all'anno quindi non si fermano mai perché abbiamo dei gestori molto bravi in più c'è una torcia di sicurezza che è l'ultimo aggeggio che vedete sul piazzale in caso in cui il motore si spenga automaticamente si accende la torcia quindi il metano viene bruciato perché non possiamo fermare il processo di fermentazione dei biodigestori si vede una grande marmitta sopra il container che contiene il motore perché le emissioni di questo motore sono assolutamente a norma e devo dire molto monitorate e filtrate da quelle enorme marmite in modo che le emissioni siano compatibili con l'ambiente inoltre questo motore produce calore che viene utilizzato dalle tre case della famiglia Ricci dal capannone, dall'officina e dagli uffici per cui è un ciclo integrato dove tutta l'energia prodotta viene assolutamente utilizzata ecco nel caso in cui si dovesse interrompere il flusso di gas al motore cosa succede? Si va in blocco il motore e quindi si ferma la produzione oppure al contrario qual è la capacità di stoccaggio di biogas per far alimentare il motore? cioè se si ferma la produzione di biogas abbiamo una scorta per quante ore per far funzionare il motore? No, la scorta è molto ridotta cioè se non riesco a produrre biogas il motore diminuisce subito la sua potenza quindi non è che si spegne completamente ma può ridurre la potenza può ridursi fino anche al 50% senza spegnersi circa diversamente l'eccesso viene bruciato dalla torcia semplicemente però si cerca di alimentare l'impianto in modo tale che ci sia una produzione costante di biogas al motore non abbiamo detto la capacità produttiva che è molto importante per questo è uno stabilimento molto molto grande quanti kilowatt o megawatt produce? L'impianto produce 999 kilowattora per le 24 ore della giornata quindi giorno, notte, salvo interruzioni tutta energia che va in rete questa? Tutta energia che va in rete tranne una piccola parte parliamo di un 5% più o meno 5-6% che serve all'impianto per far funzionare tutte le sue macchine, tutti i suoi motori, tutti i suoi mixer c'è una parte di energia che viene utilizzata per il funzionamento la rete va solo il 94-97% insomma per dare un po' la percezione ai nostri amici telespettatori insomma con un megawatt quante famiglie si riesce? 300 famiglie con un megawatt noi più o meno alimentiamo 300 famiglie sono i famosi 3 kilowatt e mezzo per ogni casa esatto il conto torna riusciremmo anche a riscaldarle queste case ma dopo è un problema di distanza, di costi per cui noi utilizziamo questo calore sicuramente per le case della famiglia Ricci per l'officina, per l'ufficio ma ci sarebbe ancora potenziale in Italia però siamo poco attenti a questo aspetto in Germania e in Austria lo sono molto di più tant'è che questi impianti di solito vengono autorizzati e costruiti vicino ai paesi proprio per utilizzare il calore da noi è un po' diversa la questione dunque allora noi ci fermiamo un secondo perché continuiamo a parlare intanto di quelli che sono i costi ma poi insomma ci trasferiamo in un altro settore di questo impianto perché poi c'è un altro prodotto molto importante che dopo viene utilizzato ma ne parliamo tra un po'